Sto consultando per vedere se oggi in Facebook incontri di coppia, c'è qualcosa di più bello nel mondo. Ugo, troppo grande. Jorge Alberto, come ti fai una foto toccandoti... No, che foto, vengono le gambe così, in avanti, sembra grosso. Poi con le scarpe rose. Non le potevano dire che quella posa non andava bene, mamma mia. E questo è la metà della faccia illuminata, non ci posso credere. Che idiotti. Guardo col petto di fuori, ma mentre qua inizia l'inverno. Hai fumato, Willy, eh? Hai fumato tanto. Ti si vede in faccia. Ma che fai così? Che fai così? Con la faccia che fa... Incredibile. Angelo, ma guarda, questo è un photoshop. È un photoshop. Non si fa così. Mamma mia. Questo la barba è incolta da otto giorni. No, no. Chi potrebbe baciare un tizio così? Sessantatré, Riccardo? Ti sei tolto almeno dieci, eh? Ah, no, 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 no. Quando si mettono gli occhiali neri, come fai a sapere se uno sguardo è vero o no? Martino, la faccia ha tagliato fino a qua. No, guarda. Chiudo, 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 chiudo. Guarda, guarda. Non si può, non si può, non si può. Non si può trovare bellezza e bontà in questo mondo. Che sono le cose di cui abbiamo bisogno. Ciao!